Io penso che fra i film più belli della cinematografia italiana ci siano delle commedie e anche delle commedie che hanno funzionato benissimo con il pubblico non è che per forza un film per essere bello deve non funzionare col pubblico Quindi mi piacciono quasi tutti i film mi piacciono anche i film di divertimento quelli che sono fatti per intrattenerti mi piace quasi tutto Bambi's on fire Better throw her in the water Look at her laughing Like a heifer to the slaughter Bambi's on fire And all the laughing boys are bitching Waiting for photos Oh the plot is so bewitching Rescuers, row, row Do your best to change the subject Blow the wind, blow, blow Lead some assistance to the object Photographers, snip, snap Take your time, she's only burning This kind of experience Is necessary for her learning If you'll be my thoughts I could be half the man I used to See you next time Take your time Bye 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 Bye